e bello a tutti ragazzi noi siamo Siamme Canabello, io Stefano e benvenuti in questo nuovo video ragazzi oggi ragazzi in questo nuovo video cominciate a mettere un bel like qui sotto mi raccomando spollice alla più non posso abbiamo deciso di fare una cosa molto carina che non abbiamo fatto più da un po' di giorni ragazzi sicuramente vi piacerà molto esatto questi generi di video sono sicuro che vi piaceranno molto perciò andremo a fare un altro prank ragazzi avevamo detto che l'ultimo prank sia quello che avevamo fatto a quel mio amico Andrea e poi lo faremo anche oggi allo stesso quindi avevamo deciso che quel video doveva arrivare a un certo numero di like e di visualizzazioni per farne un altro ma non mi ricordo quanti ma 20 mi piace esatto 20 o 15 avevamo detto però siccome non c'è ancora arrivato e spero che presto ci arriverà comunque siccome volevamo farvi divertire con un prank abbiamo deciso di anticipare ragazzi anche perché in questo tempo dovrebbe essere arrivato a 20 ragazzi però purtroppo non c'è esatto ragazzi poi ragazzi perché noi vi vogliamo molto bene vogliamo farvi divertire perciò niente che dire ok ragazzi quindi adesso vi spiego in che cosa consiste esatto ora vi spiegherà Mark in cosa consiste questo prank allora in pratica andremo a messaggiare sempre con il mio amico Andrea ragazzi esatto e gli andremo a dire cioè io gli andrò a dire che in pratica Stefano ha perso la voglia di fare i video su YouTube di portare avanti il canale esatto ragazzi faremo finta che io non voglio più lavorare nel canale insieme a Mark perché in pratica c'è successo come saprete penso a qualcuno di voi ci sono diminuiti parecchio gli iscritti circa una ventina esatto e poi non aumentano tanto poi le visualizzazioni che vi c'è non tanto le visualizzazioni like rimangono un po' indietro quindi ci inventeremo useremo queste scuse per far credere ad Andrea che Stefano non vuole più partecipare esatto ragazzi e quindi poi andremo ad insistere faremo proprio credere che la cosa è vera Mark lo scriverà scriverà farà proprio vedere che è proprio vera la cosa capito ragazzi io poi lo videochiameremo pure e faremo vedere ragazzi che praticamente io sarò tutto triste tutto incavolato così quasi vi digherò pure con Mark e dico no ho deciso non voglio più lavorare nel canale mi sono stupo così però tutta la mia bellissima recitazione che conoscete e quindi niente ok ragazzi vuoi vedere la schermata del telefono la vedrete qui ragazzi qui al centro e niente che dire quindi iniziamo subito con questo bellissimo nuovo prank ecco il mio telefono ecco il telefono di Mark perciò andiamo a iniziare ok ragazzi eccola qui vedete la bellissima schermata del telefono di Mark come vedete ho cambiato anche lo sfondo mi ci ho messo l'immagine del canale andiamo su Whatsapp vedete Whatsapp ok ecco Andrea allora adesso andremo a scrivere delle belle cosettine vediamo un po' speriamo che risponde subito speriamo che è online perché vuole essere che non risponda speriamo meglio ciao diciamolo vocalmente ciao Andrea con la faccetta triste scusate ragazzi il problema però è che non posso dirglielo vocalmente perché altrimenti il registratore non può diciamo con il registratore non si può messaggiare vocalmente anche questo va bene puoi pure fargli vedere per adesso questo messaggio che lo mandi lo fai vedere adesso al pubblico qui e poi adesso per la rosa vocale la fai sentire sì dico 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 andremo che metto in una faccetta triste ok ragazzi perfetto vedete ragazzi qui la faccina è triste ho scritto ciao andremo ebbene adesso ora leveremo un attimo qui la schermata ecco ragazzi vedete non c'è più e ora quindi andremo a fargli un messaggio vocale quindi adesso va che glielo fatti ciao Andrea ti volevo dire una cosa in pratica in pratica Andrea è successa una cosa un po' strana cioè mi è successa una cosa un po' strana non capisco perché intanto ci sono diviniti parecchio gli iscritti circa una ventina 22 così e poi non si capisce perché Stefan non mi vuole più ascoltare non vuole più fare niente del canale non ne vuole più sapere perciò io non so come fare se tu mi vuoi aiutare e non pensare che è uno scherzo perché questa volta è veramente vero sentito ragazzi la voce realistica molto recitazione buona di Mark ragazzoli questa volta ci deve cascare per forza se risponde ci deve cascare e niente che dire quindi poi se c'è da aspettare noi taglieremo e ovviamente tagliamo le parti dove si aspetta tanto e lasceremo le parti buone ovviamente ragazzi quindi tranquilli ah rimetti la registrazione sì ok ragazzi eccola qui vedete è riepparsa ora potete vederla tutti la schermata del telefono di Mark quindi che dire aspettiamo ok ragazzi quindi adesso abbiamo deciso siccome abbiamo aspettato un pochino ma ancora non risponde non ci sono neanche due come potete vedere due spunti esatto ce ne sono due ragazzi perciò perciò pensiamo abbiamo pensato di videochiamarlo di provare esatto ragazzi ora proviamo di chiamarlo per vedere se magari adesso toglieremo la schermata ok perfetto non è che lo videochiami anzi lo chiami non lo videochiami no dopo mi vedo che sto qui sto zitto ecco ok ragazzi l'ho solo iniziato a chiamare per fargli capire che gli voglio parlare ok oppure puoi chiamarlo e glielo dici nella chiamata e poi dopo poi dici vabbè ripassiamo adesso a scrivere così poi riprendi le inscritte va bene allora facciamo così ragazzi mi raccomando la cita bene dì veramente vediamo dove stai io ovviamente stavo zitta quindi visto ti pensavo che ero io che ero strano abbiamo ripreso ragazzi attenzione abbiamo ripreso una cosa parano dopo lo rivediamo il video perciò vediamo sinceramente a succe ha visto quella luce c'è accesa e si spenderebbe una nazione senza sacchiella ragazzi che dire se voi l'avete visto scrivete qui sotto nei commenti se avete visto che la luce ha fatto scherzi questo non è uno scherzo non fa parte del premio non lo so stavo così ho visto la luce che tanto lo abbiamo registrato col ciò per i vetri se avete visto quella cosa lì che abbiamo visto noi quella specie di cosa strana della luce scrivetecelo sotto nei commenti chi l'ha visto ce lo scrive sotto nei commenti mi raccomando e scrivete hashtag luce luceorro ok hashtag luceorro se l'avete visto mi raccomando se l'avete visto ma veramente non faceva partire i piani non so non capisco che cosa sia successo forse quelle lampadine che potrebbe rientrare dentro la cosa che ne so vabbè comunque che dire ora andremo a chiamarlo e la marca andrà a chiamarlo perciò che dire dai tu però vai via no chiami solo io sto fermando non rido niente dopo vabbè secondo me ti dovresti un po' spostare vabbè ragazzi allora mi sposto ciao ragazzi e donno io tu sono qua allora ragazzi qui giù allora eh ragazzi scusate per l'interruzione ma esatto purtroppo Andrea non rispondeva e poi abbiamo dovuto tagliare questo pezzo anche perché l'abbiamo dovuto cenare esatto abbiamo cenato ragazzi ora continuiamo questo bellissimo prank ragazzi mi raccomando allora quindi voi potete vedere qui la bellissima schermata del telefono di Mark vedete ragazzi qui la schermata del telefono di Mark e ora ragazzi ho già visualizzato delle cose adesso è online quindi adesso andremo a dire questo bel prank adesso vi facciamo vedere quello che gli abbiamo scritto nel tempo diciamo ecco qua ragazzi abbiamo solo scritto qui ti parlo dopo stiamo cenando perché lui ci ha risposto avevo il telefono spento esatto è per questo che non rispondeva ragazzi poi ha detto ok io a dopo adesso quindi continuiamo e diciamo parliamo proprio del prank vai cominciamo ok ragazzi eccoci qui già due spuntini quindi ragazzi mi raccomando adesso sono sicuro che visualizza è fatta mi raccomando se il video ti ama tu spasta esatto se non mi faccio vedere che esco faccio qualcosa comunque questo prank deve andare bene ragazzi mi raccomando mettete subito un like qui sotto spolliciata più non posso e commentare aspetta riscrivo ora mi ha scritto vedete ragazzi ci sei ci sei vediamo se rispondere se è scritto se non risponde possiamo provare la video oppure il messaggio mi disattivo un attimo ok ragazzi vedete qui è scomparso la schermata allora silenzio allora Andrea ci sei ti volevo parlare ok ragazzi allora ragazzi siccome non risponde ancora proviamo a chiamarlo ragazzi non mi sposto togliamo un attimo qui ok nasconditi marco ciao buonasera ciao come sei lavoro a te e insomma che è successo niente ti volevo solo parlare di una cosa che in pratica non so se te ne sei accolto ma nel nostro canale si sono diminuiti un bel po' gli iscritti non so se te ne sei accolto eh si me ne ho accolto cioè ne hai parlato pure nella scorsa live no eh si cioè in pratica in pratica erano 146 e poi il giorno dopo sono diventati di 120 124 adesso sono 120 si mi ricordo e niente in pratica non so perché ma hai visto pure Stefano ha fatto quel disegno lì che era di satan mort no di quel demone hai visto quindi sembrava che andava tutto bene a un certo punto oggi non si sa perché eh deciso di mollare youtube perché vede che gli iscritti non aumentano ci vuole tempo e quindi adesso sta in camera sua chiuso non ci riesco a parlarci non so perché potrebbe essere che ha perso la tua stima vedendo che sono calati gli iscritti potrebbe essere o semplicemente se è stufato non lo so poi tu ma hai detto cioè io nell'armi ci sono stato quando l'ho fatta ieri mi pari quando è che hai fatto la live non mi ricordo precisamente eh non c'era stato uno che aveva detto che sta cosa che scendono gli iscritti era un bug non di youtube eh infatti infatti l'ho vista questa cosa cioè però io infatti non è che ho perso l'autostima non c'è voglio ancora continuare a fare su youtube perché o solo perché ci sono un po' calati gli iscritti poi per un bug mica che magari ce li abbiamo ancora con gli iscritti ma è solo una cosa così non lo so tu ne sai qualcosa questo fatto che vi so calati gli iscritti eh si eh niente posso di niente mi ricordo comunque che con gli iscritti c'è stato sempre un problema su youtube uno a certe volte ci sono state cioè certe volte in cui i numeri non corrispondevano con gli iscritti che invece ci sono al canale però non ti so di più di questo comunque quindi non lo so cioè mi ricordo che c'erano alcuni bug sugli iscritti però non so se questo è un bug ma credo che lo sia perché insomma 20 iscritti che se li si iscrivono tutto al tratto è una cosa un po' strana poi in una notte la notte cioè la sera prima c'erano 20 in più e la mattina dopo 20 in più non capisco boh veramente è cosa strana vabbè aspetta è entrato adesso in camera mia che dai sto parlando con Andrea se non fare così ti ho deciso non voglio più fare i video tu perché non lo sai ma per parlare con lui certe volte è difficile cioè cioè no te lo giuro non è uno scherzo ma che scherzo magari fosse uno scherzo io lo sapevo che pensavi che era uno scherzo ma purtroppo non lo è lo vorrei anche io che fosse uno scherzo eh perché mi pare strano ma vedo che è così tutto un tratto cioè comunque come hai detto tu e ha fatto pure il disegno è stata a Morse quando era ieri mi pare che ha pubblicato il video è strano da un'altra sta rosa forse che ne so ha lavorato troppo non lo so chiediglielo a lui non so se ci vuoi parlare eh ma tu non ci riesci a noi a parlare? è stato chiuso un bel po' nella sua camera poi adesso è venuto qui non so eh non so che dite perché tutto un tratto smette tutto un tratto così le pare strano non ce la faccio non ti devo dire non è passata la voglia sarò strano io ma non ce la faccio è antico ma è che è successa un'altra cosa oltre che sono diminuiti gli iscritti è successa una cosa veramente che ti abbiamo brancato la seconda volta una volta e che quello è successo dai scusa no dai dai scusa scusaci però like raga mi raccomando saluta YouTube eh fagli salutare YouTube ciao 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 tutti voi le costate a guardare la seconda volta seconda volta non ti mancio niente dai dai basta tranquilla è l'ultima volta dai tranquilla era solo l'ultima volta mi pare che pure l'altra volta però non ti mancio l'ultima volta niente ragazzi quindi come avete visto lo scherzo ha funzionato è andato veramente benissimo come va bene quindi ultimamente ci funzionano bene niente quindi niente questo video dovrà arrivare diciamo a facciamo a 25 esatto ragazzi fate arrivare questo video a 25 mi piace perché è molto verico perciò se mi merita e quindi niente ci becchiamo al prossimo video che sarà forse di Asphalt 8 oppure un horror non so anzi il primo video che pubblicheremo sarà un video un po' sorpreso un disegno vi dico solo questo esatto è un video sorpreso a disegno quindi niente aspettate con ansia questo prossimo video e niente ragazzi che dire ci vediamo al prossimo video e quindi niente ciao a tutti ragazzi